Buonasera da Sandro Canna per i sociali, un po' che non faccio video ma purtroppo il tempo e i dolori il tempo e i dolori, abbiamo solo lo scooter scoperto e il tempo e la pioggia e la mancanza di denaro, non posso fare video interessanti ragazzi purtroppo come sapete l'infortunio che ho avuto in giugno mi ha costretto a fare part time perché non riuscivo a sostenere una giornata di lavoro intera e poi mi ha costretto a accorciare il contratto invece che a fine novembre a metà settembre e adesso sono ufficialmente disoccupato cosa mi aspetta del futuro non lo so perché comunque sto ancora a casa di mia madre prospettivo di trovare un appartamento per il momento non ce ne sono anche perché sono quasi verde perciò devo contenere tutte le spese adesso devo contenere tutte le spese vabbè prendo un altro stipendio al 10 ottobre ma sarà una cosa ridicola insomma colloquio non fatti anche questi mi hanno chiesto ah ah mi raccomando se se dove vai non ti piace se hai già riconfermato qua a febbraio a marzo ma a marzo è l'anno prossimo l'altro quello che ho fatto è che ora di parola per novembre ha detto che apre dicembre poi chiude gennaio febbraio e riapre a marzo attualmente non posso neanche andare tanto in giro a cercare tanti lavori perché non sono al cento per cento da me con soluzione fisica perché come ripeto dopo la caduta ho questi problemi pesanti che si manifestano specialmente dopo ore in piedi che mi proprio mi lacerano la gamba sinistra ogni tanto mi colpiscono anche gli avvambrazzi e la gamba destra ma proprio la gamba sinistra diventa diventa quasi un un arto colpito da delle pugnalate ecco cosa fare ovviamente non è nessuno che può aiutarmi perché è così e devo arrangiarmi devo tagliare tutte le spese cercare di massimilizzare i costi ovviamente non posso andare a lavorare con lo scooter quando ci sono questi lunghi fragi qua l'ho già visto adesso sto cercando di fare uno scambio alla pari con uno scooter più vecchio ma a meno che ha il tetto ecco e a meno protegge dall'inverno e dalla pioggia vedremo adesso come si imbastizia la situazione dovevo fare due visite ma le salto perché anche i 100 euro in questo momento possono fare la differenza perciò niente mi faccio la mia sera in solitaria a casa a mangiare per fortuna non mi è mai prendata via così posso un po muovere per la casa sistema un po sì il mio il mio progetto era tornare qua farmi la stagione mettere via dei soldi intornare in cina sarà la fino all'inizio della stagione così i soldi mi bastavano ne avvenziamo anche per tornare qua e ripartire con la stagione purtroppo i piani sono andati male e adesso devo vedere insomma come andrà la situazione scusatemi ragazzi di sicuro mi sto organizzando per farvi nuovi video nuove nuove avventure però non mi sembra neanche anche se il trend è quello cioè a farvi vedere il video che mangio scatoletti di tonno o pizze sorgelate non mi sembra il caso ecco ci vediamo al prossimo video mi raccomando se volete offrirmi un caffè per il futuro di video per riuscire ad arrivare a dicembre lascio il link in descrizione del mio paypal mi anche perché non siamo ne ancora arrivati a novecento a mille iscritti nonostante tutto lo so il canale era più interessante quando ero in cina e facevo le bici e facevo vedere le cose è andato su ai massimi ai massimi di visualizzazioni probabilmente a gennaio tornerò in cina se va tutto bene per un paio di mesi e poi tornerò qua a lavorare a rifare la stagione si spera che nel 2015 vada tutto meglio di come è andato adesso e noi ci aggiorniamo ciao ciao ragazzi grazie del supporto grazie di tutto ciao ciao